Aveva la cocaina in auto e in casa. Nello scorso weekend i carabinieri della stazione di Pescasserro li hanno arrestato in flagranza un cittadino di 23 anni. L.P. le sue iniziali con precedenti di polizia per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari già da diversi giorni tenevano sotto osservazione e sorveglianza l'indagato individuato nel contesto di una complessa attività di indagine finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio del comune di Pescasserro li al fine di monitorare le attività di rifornimento e di spaccio nel vero senso della parola. Così sabato scorso il soggetto è stato fermato su strada per un controllo successivamente sottoposto a perquisizione personale veicolare domiciliare che ha consentito di rinvenire 11 grammi di stupefacente tipo cocaina contenuta in due ovuli una bilancia elettronica di precisione materiale vario utilizzato per il confezionamento della sostanza. Il 23enne pertanto è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e dopo l'esecuzione dei rilievi fotosegnaletici sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione come disposto dalla procura della repubblica di Sulmona che coordina le indagini.